Rimane incerta la data di chiusura dei lavori su Viale dei Romagnoli. Ieri mattina, presso l'Aula di Somma del X Municipio, si è riunita la Commissione Mobilità e Lavori Pubblici. Ordine del giorno, avanzamento del cantiere dell'ormai tristemente celebre Occhialino. Durante l'incontro è stato comunicato che è stata finalmente effettuata la gettata di cemento, dichiara il presidente dell'Associazione Salviamo Stiantica, Gaetano Di Staso, e che bisognerà aspettare i canonici 28 giorni per il consolidamento della piattaforma, dopodiché si potrà procedere al collaudo. Nel frattempo saranno portati avanti i lavori collaterali, come il ripristino del cordolo e il posizionamento del guardrail. Tante sono le domande sui ritardi, due le risposte date. In primo luogo sono stati rinvenuti dei reperti archeologici, che oltretutto devono ancora essere presi in consegna dalla sovrintendenza. In secondo luogo è stato necessario spostare le reti di Italgas, Acea e Telecom, fattore che avrebbe allungato e non di poco i tempi. Quando abbiamo chiesto la data precisa della conclusione dei lavori, conclude Di Staso, abbiamo avuto la sensazione di aver ricevuto risposte nebulose. Non c'è nessuna data certa. Il collaudo forse sarà fatto il 15 febbraio. Abbiamo quindi richiesto un nuovo incontro a metà febbraio per fare il punto sull'avanzamento degli interventi.